Uapo è un'iniziativa partita ancora tre anni fa a Trento, a dire il vero la prima partita a Padova, Verona e Brescia con delle feste intineranti, dopodiché io essendo di Trento mi hanno offerto di fare questa festa a Trento e ho avuto subito un grosso successo, da lì con una cadenza di una volta al mese, due volte al mese abbiamo richiamato quello che era il pubblico LGBT del Trentino Alto Adige, la sigla si rifà a quello che poi è il nostro pubblico, a un pubblico di lesbiche, di gay, di trans, di bisessuali, di etero anche perché poi alla fine comunque noi non escludiamo nessuno, io amo chiamare l'Uapo oltretutto l'unica festa etero friendly perché in realtà alla fine da noi il gruppo che organizza si rifà a quello che sono le associazioni gay, però in realtà poi è un pubblico eterogeneo, voglio dire aperto a tutti, dove la gente che viene da noi viene esclusivamente per divertirsi, quindi nelle nostre serate sono serate di festa dove ci sono degli show con le drag queen, con i go go boys, le go go girls, quindi facciamo spettacoli e poi tanta tanta musica, tanto divertimento, c'era questa richiesta di venire qui a Bolzano, infatti siamo un locale, il Paprica che è oltretutto sopra a un vecchio locale, il 6,6 che facevano le prime feste LGBT dell'Alto Adige. Per sabato si prestava il locale a questo Uapo Space Attack, quindi sarà una serata di inaugurazione a Bolzano in tema spaziale, ci saranno dei ragazzi, ci saranno una famosissima drag queen di Bolzano, la Gina Queenie, poi ci sarà una nuova, una new entry invece di Trento, la Velma Sinner e quindi faremo qualcosa, non posso dire tutto perché sennò togliamo la sorpresa.